ok sono andata in apnea negli ultimi dieci secondi e sono stata bene invece noi abbiamo noi ogni qualvolta vero il che è il prossimo titolo che mi propone tessi senza il testi senza senso ovviamente ovviamente il generatore invece io vorrei cambiare prima lo sfondo ma 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 belle unghie però questo qua no questo no questo bello ma no questo questo bel deserto del deserto noi qualvolta vero il assolutamente no cambiamo il titolo gli egli luteina contenere oppure perciò qualche volta la lu davanti prima poco rifiutata di infine si se imporre e lì l'ho girata troppo in fretta non ho fatto in tempo a leggerla scusate altrimenti svolgere ieri nessuno esso qualche volta vosco guarda guarda che male detto che sei lì ci ha il porri forte il porri forte mi piace porri forte hai capito invece del punch forte uno si fa un porri forte mi parte con un bridge presto oro vivo runatico rilassante gucci provare a venire panno ogni tanto domani rovente infine fermare sotto nostra uno starbucks il porri forte lo dan lo vendono da star va da starbucks capisci il porri forte sciatore turbato pollo spingere dentro languido maglia diffondere risolvere oro 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 vecchio vistoso meraviglioso verboso mais tutto ciò babbuino il porri forte tutto ciò babbuino il porri forte trovo che sia un testo veramente veramente notevolissimo ok il porri forte adesso merita ovviamente una base sensata però però ancora niente porri forte per me questa sera perché mi ubriaco subito il porri forte non fa per me ma fa per tessi senza senso questa come c'è un classico ma io vorrei qualcosa di nuovo il gran natale confusa perché vorrei successo che ci sono le tante sono tutte mischiate in mezzo quindi sempre uguale meravigliosa sto facendola la faccio ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tutto ciò papuino, il porri forte. Tutto ciò papuino, il porri forte.